Ben trovati, siamo in diretta dalla zona sud di Pescara con il sindaco Carlo Masci che gentilmente è con noi perché oggi è una giornata importante, è stato aperto ufficialmente uno svincolo qui che collega la zona centrale all'asse attrezzato alla zona sud, giusto sindaco? In questo momento ci troviamo su una strada che tra pochi anni non esisterà più, ci può spiegare il progetto? Sì, ci troviamo sullo svincolo a Trombetta che tra qualche mese sarà totalmente demolito e scomparirà tutta questa massa di cemento che io identifico come un ferro di cavallo di cemento e che noi elimineremo come detrattore ambientale a ridosso della pineta perché oggi abbiamo messo il primo tassello, abbiamo aperto la rampa di uscita della circonvallazione nella zona vicina a questo svincolo però in una zona più tranquilla perché questo ci darà la possibilità di intervenire sulla demolizione dello svincolo a Trombetta che è il secondo passaggio fondamentale. Il terzo passaggio è la chiusura di una parte di via della Bonifica in corrispondenza dei comparti 4 e 5 della pineta in modo da allargare la pineta di ben 22 mila metri quadrati. Io immagino i cittadini di via L'Alge Alcione che per 50 anni si sono visti le macchine al secondo, al terzo piano delle loro case che vivranno tutta un'altra realtà perché questo detrattore non esisterà più fra qualche mese. Facciamo vedere solo e poi vi mandiamo il servizio di ridolalinea dove siamo. Alessio Tallari, l'operatore, ci fa vedere che siamo proprio con una visuale davvero privilegiata quindi grazie a quest'opera tutti i residenti dell'area non avranno più le macchine sostanzialmente in casa. Il sindaco... Non avranno questo ammasso di cemento che è ancora più importante. Lei ha anche risposto a dei cittadini che hanno chiesto maggiore sicurezza proprio lì alla rotatoria? Tutte le risposte che servono però la città va avanti, cresce, si modificano le cose e si modificano nel senso di una programmazione, di una progettazione che va avanti da anni e che oggi trova la sua concretezza e la sua realizzazione. Benissimo, allora guardiamo il servizio su questa importante inaugurazione poi la linea può tornare allo studio grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Grazie a voi. Nella zona sud di Pescara prende forma il primo tassello di un importante progetto urbanistico che cambierà il volto di quella zona di confine che vedrà la cancellazione del cosiddetto svincolo a trombetta per decenni unico strumento di connessione tra quell'area e il centro attraversato da una mole di traffico imponente per cui i residenti del villaggio Alcione, il quartiere residenziale adiacente hanno subito grossi disagi. Il primo tassello è la rotatoria posta nei pressi di via Alfredo Luciani che consente l'entrata e l'uscita dalla circonvallazione della statale 714. Per l'occasione sul posto il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'intera giunta intercettati da un gruppo di residenti che pacificamente hanno espresso le loro perplessità sulla nuova opera e chiesto più sicurezza. Andiamo con i bambini a scuola a piedi o in bicicletta quindi sicuramente l'uscita diretta su una zona che è altamente popolata e ultimamente con le nuove costruzioni è molto ricca di nuove famiglie ci poniamo il problema della sicurezza. L'importante è che tutta la gente che abita in questa zona o comunque che soffrirà di queste strade possa usarle in sicurezza. Tutto quello che c'è, semafori, strisce pedonali.